Bene, come potete vedere ho appena collegato il Raspberry al televisore e volevo farvi notare una cosa interessante proprio perché invece di collegare il Raspberry per alimentarlo a un alimentatore di tipo esterno che costa altri circa 10 euro, l'ho collegato direttamente alla porta USB della televisione. Infatti il Raspberry si alimenta tramite una USB micro USB. Comunque detto questo l'ho collegato appunto all'USB della televisione e la corrente che la televisione gli fornisce è più che sufficiente per alimentarlo e questa è una lieta notizia sia perché non dobbiamo avere troppi cavi collegati a troppe prese ma anche perché ci consente di risparmiare ulteriori 10 euro per appunto l'alimentatore ammesso che naturalmente la vostra televisione sia in grado di erogare tanta corrente ma penso che comunque l'USB essendo standard ce la faccia in linea di massima. Comunque come potete vedere ho anche collegato semplicemente una chiavetta USB al Raspberry per vedere i contenuti multimediali. Se invece volete collegarli un hard disk consiglio un hard disk esterno USB ma non autoalimentato per essere sicuro appunto che il Raspberry riesca a erogarli una corrente sufficiente essendo che appunto non è in grado sia perché prende la corrente della televisione non è in grado di fornire troppa corrente alle porte USB altrimenti rischia di spegnersi. Comunque adesso togliamo lo zoom e spostiamoci verso la televisione. Ecco qua. Innanzitutto volevo farvi vedere i tempi di avvio di OpenElec e contemporaneamente farvi vedere un modo per collegarlo per interfacciarci con XBMC senza utilizzare mouse e tastiera ma semplicemente utilizzando il nostro smartphone come una sorta di telecomando. Per farlo esiste un'applicazione, adesso provo a mettervela qui davanti sperando che la messa a fuoco funzioni, ok. Esiste questa applicazione che si chiama XBMC Remote che è disponibile sia per iOS sia per Android quindi qua chiudiamo. Ci basterà premere su Remote Control e quindi con i tasti direzionali potremo spostarci tramite appunto le impostazioni di XBMC. Per farvi vedere i tempi di avvio, farvi cominciare a assaggiare la reattività appunto di XBMC comincerei a riavviare il tutto. Quindi riavviamo e vediamo un po' quanto tempo ci mette per riavviarsi. Naturalmente consiglio di non mettere i file multimediali direttamente sull'SD sul quale è installato il sistema operativo ma consiglio di mettere i file multimediali su un supporto esterno. Intanto questo è un consiglio che vi do intanto che si riavvia il sistema operativo. Come vedete, questo è il logo di OpenELEC. Sostanzialmente è sempre una distribuzione Linux ma è focalizzata solamente sull'utilizzo di questo tramite XBMC. Ecco qua, è XBMC e adesso attivato. Quindi aspettiamo che carichi l'interfaccia. Questa non è l'interfaccia standard ma è una personalizzata che ho scaricato un po' a caso giusto per vedere un po'. I tempi di avvio sono in linea di massima molto simili a quelli della Western Digital TV Live comunque. Quindi tramite add-ons questo qua è il classico naturalmente il classico pannello di XBMC in quale ho già realizzato un video che spiega vagamente come usare anche delle funzioni discretamente avanzate come ad esempio poter interfacciarsi con server DLNA sulla propria rete oppure far diventare XBMC stesso un server DLNA. Quindi vabbè in add-ons potremmo andare a aggiungere delle varie estensioni come ad esempio se volessimo interfacciarci con YouTube o comunque con altre applicazioni. noi adesso interessa andare in video e andare a vedere andiamo in file e vediamo che la nostra chiavetta Kingston è stata rilevata correttamente stesso discorso sarebbe valso se avessimo collegato un hard disk esterno naturalmente. quindi andiamo su Kingston e vediamo i tre files che abbiamo caricato sono tutti in alta definizione uno è un MKV mentre gli altri sono dei nostri video che abbiamo realizzato. Prendiamo sempre questo che è 1080p togliamo il volume benvenuti in questa seconda parte della serie su come assemblare la propria stazione multimediale ok togliamo il volume e come potete vedere la reattività è davvero molto alta adesso sto mandando avanti il filmato a 16x e come vedete è davvero fluidissimo proviamo a stoppare adesso e mettiamo ad esempio un film ok partiamo dall'inizio questo tra l'altro è un film che non è stato neanche distribuito in Italia lo consiglio è Dread il reboot che è disponibile solo sotto tutto lato però andiamo un po' avanti e come vedete anche nel caso di MKV a 1080p la reattività è tanto buona quanto la Western Digital TV Live se non superiore forse quindi possiamo stoppare e per il resto non c'è niente da dire se non per il fatto che che vi consiglio anche di vedere il video in cui avevo appunto parlato di XBMC un po' per andare a capire tutte le possibilità e le impostazioni che sono effettuabili infatti se andate nel menu impostazioni avrete davvero a disposizione in tantissimi modi per personalizzare tantissime funzioni avanzate per potenziare appunto la vostra esperienza con XBMC bene con questa parte abbiamo concluso e vediamo un po' come andare a installare OpenElec sulla nostra SD Card di Raspberry con XBMC e con XBMC e con XBMC